salve care amiche cari amici vi saluta il vostro san ten chan oggi è un giorno speciale per me perché il 26 gennaio 2018 voi vi sareste vi stare starete chiedendo perché un giorno speciale e io mi ci faccio centrare nel cellulare e ve lo spiego beh nella vita di tutti noi ci sono due anni nuovi quello collettivo che inizia il primo gennaio e quello individuale che inizia il nostro il giorno del nostro compleanno e oggi 26 gennaio nascevo io il 1969 quindi celebro 49 anni vi ringrazio a tutte e tutti di seguirmi oggi che compio 49 anni il 26 gennaio nascevo nel 1969 e quindi ho molte cose da condividere ancora con tutte e tutti voi soprattutto molti ricordi perché ho visto che la media del mio pubblico va dai 25 ai 36 anni ed è 36 37 anni ai 46 56 quindi ho molte cose in comune con voi ma ho anche una fetta di pubblico che è under 25 quindi se volete sapere qualcosa del passato del mio passato che poi anche il vostro passato anzi il vostro trapassato e poi mi raccomando vabbè a parte gli auguri sotto questo video che metterete mi raccomando commentatemi i temi e dei quali vi piacerebbe che io parli nei miei video e quindi ho voluto fare un video visto che ho fatto un video di ringraziamenti per aver raggiunto il mezzo milione di visualizzazioni e farò un video di compleanno del canale 7 febbraio del 2018 voglio anche il dilungarmi spiaggiarmi a fare un video dove celebro il mio compleanno certo non faccio festa perché mattina presto però sappiate che farò festa mangerò la torta mi mettono questi altri occhiali dovrò fare un video tutorial sugli occhiali che ho avuto negli ultimi 30 anni con questo che sono i vecchi vedo meglio quando ci avviciniamo a cinque minuti perché voglio dargli risoluzione 4k allora con cellulare mi filmo solo cinque minuti come dire avrei voluto fare oggi altri video tutorial sui libri che so che a alcuni amici miei gli piacciono molto soprattutto di rheinisch però oggi no niente voglio fare allora oggi il mio compleanno con più 49 anni non ho molto da dire a parte che sono contento che tutti e tutti voi mi seguiate mi diate corda per andare avanti ma mi raccomando fate sopravvivere il mio canale come regalo di compleanno ecco cosa vi chiedo a parte che stiate insieme a me guardandovi tutti i miei video poi se vi è possibile commentandoli e condividendoli mi raccomando non solo guardandoli insieme ad altri ma condividete nel link così vanno a guardarlo e aumentano il numero di visualizzazioni e poi iscrivetevi al canale e azionate la campanella è fatto in modo mi raccomando perché il mio canale possa continuare a essere monetizzabile che quest'anno mantenga le 5.000 ore di visualizzazioni quindi è per quello che vi chiedo di condividere il canale e suoi video perché se non mantengo le 5.000 ore di monetizzazione mi tolgono le monetizzazioni e già youtube mi deve 70 dollari dal gennaio dell'anno scorso se non supero le 5.000 ore di visualizzazioni entro febbraio non mi pagano i 100 dollari e già me ne devono 70 adesso vi lascio ciao dal vostro santenchan